Sventato attacco ucraino con droni marini al ponte che collega la russia con la crimea è il terzo in meno di un anno Violenti scontri a telaviv tra la polizia e centinaia di richiedenti asilo eritrei le forze dell'ordine hanno sparato ad almeno tre manifestanti 114 feriti 5000 persone scendono in piazza a berlino per protestare contro il progetto del governo di prolungare un'autostrada urbana Mosca ha dichiarato di aver distrutto tre droni marini diretti verso il ponte che collega la russia alla crimea Costringendo la sua chiusura temporanea per la terza volta in meno di un anno Secondo il ministero della difesa russo un drone marino è stato distrutto nella tarda serata di venerdì e altri due nella prima mattina di sabato A ottobre un'esplosione mostrata in queste immagini di repertorio aveva provocato tre morti e secondo Mosca era stata causata da un camion bomba A luglio un altro attacco aveva ucciso una coppia e ferito gravemente la figlia lasciando una campata della carreggiata pericolosamente sospesa Due droni ucraini sono stati intercettati anche nella regione russa di Belgorod Al confine con l'Ucraina ha riferito il ministero della difesa russo Sabato a Tel Aviv sono scoppiati violenti scontri tra centinaia di richiedenti asilo eritrei e la polizia israeliana durante una protesta contro un evento organizzato dall'ambasciata eritrea I feriti in totale sono 114 di cui 8 in condizioni gravi Le forze dell'ordine hanno dichiarato che la situazione è ora sotto controllo ma almeno tre manifestanti sono stati colpiti con veri proiettili per un reale pericolo per la vita dei poliziotti Gli eritrei costituiscono la maggioranza degli oltre 30.000 richiedenti asilo africani in Israele Sabato l'India ha lanciato con successo la sua prima missione spaziale per studiare il Sole a meno di due settimane dall'atterraggio nella regione polare meridionale della Luna La navicella Aditya L1 è decollata a bordo di un veicolo di lancio satellitare da un centro spaziale nel sud dell'India con l'obiettivo di studiare il Sole da un punto a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra Il satellite dovrebbe impiegare 125 giorni a raggiungere il punto L1 che consente una visione ininterrotta del Sole Sabato 5.000 persone sono scese in strada a Berlino per protestare contro il progetto del governo di continuare a espandere l'autostrada urbana a 100 il cui proseguimento stravolgerebbe un'area nota per i suoi numerosi locali notturni La manifestazione è stata indetta dai rappresentanti dei club, dalle associazioni ambientaliste e da un'iniziativa popolare In una crisi climatica, in questo momento, non bisogna più cari, più highways Berlino ha molto buona transporte pubblica, non bisogna più cari e più highways che vengono all'iniziativa all'iniziativa per la città La città è parte della cultura di Germania, la cultura di Berlino e questa è un paese dove tutti hanno molti ricordi, con i miei amici, con i miei amici Secondo gli oppositori, diversi club dovrebbero chiudere per fare spazio all'autostrada e si teme anche un aumento del traffico Non c'è ancora una data per l'inizio dei lavori perché l'approvazione del progetto è fissata al 2027 Il nostro inviato a Jeddah per lo scontro più atteso del campionato saudita No, 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 no. E con tutta probabilità di questo campionato sentiremo parlare sempre di più No, 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 no. Grazie a tutti.